Hi guys, fa la galera, hola chicos e ciao ragazzi oggi siamo nella seconda gara che ho dedicato ai grandissimi, ai maestosi, ai divertentissimi me la godo e voglio fare un ringraziamento speciale per Dread, per Matteo Piccarazzi per chi andava mi ha citato un paio di volte, mi ha messo il mio canale nelle descrizioni dei suoi video per chi ne ha parlato di me, mi ha fatto sempre tanti complimenti, quindi posso essere solo onorato ovviamente saluto anche i grandissimi Gabbo, Ron, eccetera, perché sono la colonna portante del YouTube Italia ok ragazzi, siamo qui oggi, in questa gara che al contrario della prima, come potete vedere, è un macello è GTA e quindi immaginatevi che cosa può succedere, in realtà questa è la seconda volta che registro il video purtroppo grandissimo, ci sono una grandissima doppia ragazzi qualcuno ci... no Dionis, no no, no, no ragazzi che lag era, ma che lag era quello, dai ma che lag senza senso era, prendiamo sto cerco momento, almeno ci salviamo il culo qui c'è un salto trasparente, proviamo a recuperare un missilone litattico, facciamo qualche smorto madonna che ho combinato, doppia, un'altra doppia ragazzuoli se giocassi così su Black Ops... eh no, ci ha spinto a quest'altra parte, dove si venga a finire? in culo al mondo, in culonia, vabbè, dobbiamo risparare, eravamo primi ho fatto una tripla addirittura ragazzi, che dirvi, se il video vi piace, spero di divertirvi mi raccomando, lasciate almeno 1500 like, qui si è andato un po' una merda e cercherò di trattenermi con le parolacce, dato che l'ultimo video è stato pieno e zeppo di parolacce Giovanni mi dispiace, vai a cogliere la frutta, guardate questo cerchiamo, siamo quarti, ora qui stiamo guidando la bellissima M ho preso qualcuno? eh sì, Dionis ucciso ok, prendiamo questo razzone, facciamo una bella pirouette, uccidiamola così no, dove cazzo andrà a finire? giustamente, se faccio quella giocata, il missile va a finire in un'altra parte poi prendiamo il turbo, ottimo questo front flip siamo quarti ragazzi, mancano 15 secondi dal primo spero che non ci siano linee di prossimità ok, andiamo così, prendiamo il missile vediamo se riusciamo a colpire, no, però prendiamo questo turbo e cerchiamo di andare a presto qui c'è un salto troll, eccolo qui raga, ve l'avevo chiamato, guardate che perfezione però cadiamo benissimo, siamo terzi ci mancano quasi 15 secondi, proviamo un'uccisione avevo fatto prima un'uccisione incredibile così al volo ragazzi, forse di nuovo, madonna per pochissimo non so come ho fatto a non prenderlo ma era epico, eh lì erano almeno 3000 like da chiedere comunque raga, mi sto un po' attrezzando per chiedere qualche collaborazione ora vedremo se possiamo fare qualcosa ma sapete che non è proprio facilissimo ora vediamo un po' ok, siamo al terzo giro, ne sono quattro, siamo ancora terzi sempre 15 secondi di distacco dal signorino lì, al primo posto nessuno lo uccide, mannaggia ne siamo in 15 e riesce a sopravvivere sempre ok, qui c'è qualcuno che prende il razzo 15 sparirà dietro, meno male che l'asfalto è così inclinato ci siamo salvati questa volta prendiamo benissimo il salto forse questo è secondo forse, ok, 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 ok siamo a secondi raga siamo a secondi, non so dove è il primo ma vedo che sta uccidendo tantissime persone ora siamo ancora a secondi vediamo un pochino se riusciamo a recuperarlo siamo a 11 secondi di distacco percorriamo la M gigante dei melagodo il grande loro famoso logo ok ragazzi proviamo un altro saltone qui provo la giocata impossibile, infatti si va a schiantare chissà in quale palazzo ok, spero che questo non mi uccida e ragazzi non lo so raga ma era non so se no, era davanti non so come ha fatto uccidermi forse qualche mina di nuovo non lo so ok raga sperando sempre di non incontrare mine o quasi a caso proviamo a fare di nuovo questo warride sul muro che è intitolato Nelson in Naples non chiedete il perché ma la rock star ha anche messo una maglietta tipo bonus Nelson in Naples proviamo che è una giocata impossibile ok ragazzi prendiamo qualche altro razzino magari ci potrà servire proviamo di nuovo la giocata questa volta siamo andati un po' storti un po' bah non ho fatto caso alla macchina raga purtroppo credo che andremo a chiudere in seconda posizione ma non fa niente l'importante è essersi divertito di aver mostrato la mappa spero che voi abbiate apprezzato il videone anche se cosa è questo mi stava inculando raga mi stava inculando naturalmente mi stava eh che si fanno queste cose chi è questo col fucile chi è questo col fucile sei tu non so se sei tu ma non ha fatto di sicuramente una bella fine ok mazza qualcuno si è in prima posizione raga andiamoci a prendere questo secondo posto no no ragazzi no incredibile raga incredibile andiamo a prenderci così così tag life uccidiamo il signore qui mi dispiace non so se io ti posso uccidere ragazzi siamo arrivati terzi ragazzi siamo arrivati terzi no ragazzi Daniele ha chiuso in seconda posizione invece di far la retromarcia ho fatto così ma sono un cazzone che finale stupido raga vabbè abbiamo messo il record 58 secondi ma sti cazzi dobbiamo arrivare a seconda Daniele la crew di Dexta che saluto no ragazzi che cosa stupido ho fatto lì all'ultimo va bene tra l'altro questo non è neanche morto perché si vede che non era raspanato non si moveva quindi ok ragazzi allora come già sapete io sto cercando di alternare i video tra quelli parlati e quelli non commentati spero che vi piaccia questa idea pian piano cercherò di cambiare e di portare sempre video in italiano sempre più spesso spero che però voi mi supportare di più perché ho visto che si stanno scrivendo la gente la poca gente che si sta scrivendo non è italiana quindi questo non è che mi faccia tanto piacere però raga se potete condividete il video su qualche social dato che come sapete non ne ho ufficiali quindi mi darete mi dareste una grande mano ragazzoni un abbraccio forte ci vediamo alle 18 per un prossimo video ciao 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 Grazie.